Oggi ho per voi delle curiosità dal set di Maze Runner 2, La Fuga. Innanzitutto la location è una vera città in New Mexico, che in precedenza era stata usata nella serie di Breaking Bad. Invece per le scene girate nei sotterranei è stato scelto un centro commerciale che ai tempi delle riprese non era ancora totalmente abbandonato. Il luogo era così pieno di polvere che tutti sul set hanno dovuto usare delle maschere. Poi Dylan O'Brien, che interpreta Thomas, si è dimostrato veramente un vero professionista e un gentleman. Allora l'attore è spesso rimasto a girare fino a notte inoltrata e non ha fatto uso di stuntman, proponendosi anche di aiutare i propri colleghi di set, per esempio Kaya Scodelario che nel film interpreta Teresa, in difficoltà con le scene d'azione. Che bravo. Grazie per averci seguito, vi ricordo che potete scaricare la nostra app sia per Android che iPhone. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti.